Hello, here is Wangu. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry, with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Diario alimentare di Chacha. Per caso, mentre faceva shopping a Shanghai, Chacha ha trovato una Steakhouse interessante e diversa con un piccolo stile americano fresco e un ambiente confortevole. Il menu viene consegnato. E si può vedere la differenza dalla Steakhouse generale. Ci sono molti tipi di bistecche. Oltre a una varietà di set di bistecche squisite. Il negozio ha anche una bistecca speciale di prima scelta. I contorni sono diversi dal set di bistecche ordinario. Usando lo stile americano originale dei contorni. Insalata di caviale. Patatine speciali. Pane alla griglia. Ananas alla griglia. Gamberi al forno. Eccetera semplice e speciale. La bistecca top choice è fritta in cucina da 2 a 3 volte. Bloccando saldamente i succhi e le sostanze nutritive. E poi posta su una lastra di roccia naturale per servire il pasto. La lastra di roccia viene riscaldata a una temperatura precisa di 200 gradi o più. E l'alta temperatura della lastra di roccia può essere usata per determinare la donness della bistecca a proprio piacimento. Con un pezzo di bistecca che si mordicchia sulla lastra. Mentre la lastra di roccia mantiene la temperatura più importante della bistecca. Anche le bistecche di hamburger del negozio sono una specialità. Con il middle sex sauce burger stick. Il shishin multi flavored burger stick. Il pineapple cheese stick burger. E il tuna burger stick. Che sembrano essere adatti ai preferiti dei bambini. Nel complesso. Il rapporto qualità prezzo è ancora molto buono dopo aver usato una certa app di gruppo. Soprattutto i vari stili di presentazione delle bistecche in stile fusion con i loro propri sapori distintivi che vale la pena provare 70 a testa. Soprattutto i vari stili di presentazione delle buoni di randuoli.